Nelle ultime settimane a Padova si sta registrando una recrudescenza del virus. Aumentano i casi di covid in tutta la provincia, con particolare apprezzione per il bacino termale, dove l'USL 6 ha circoscritto 3 focolai, 11 positivi in una scuola elementare di Teolo, dove nelle scorse ore sono stati eseguiti 100 tamponi, 41 invece le persone positive, per lo più turisti stranieri che hanno alloggiato in 7 strutture alberghiere e di questi 5 sono lavoratori. Poi sono altre 7 persone che hanno partecipato alla festa per un cinquantesimo anniversario di matrimonio, lo stesso dove erano presenti anche i 4 anziani ricoverati in terapia intensiva. In azienda ospedaliera aumentano i ricoveri, 48 attualmente i pazienti con covid, 31 i ricoverati tra il reparto di malattie infettive e area covid geriatrica, 5 in terapia subintensiva e 12 in terapia intensiva. L'età media dei non vaccinati in terapia intensiva è 60 anni, il più giovane è 56, quindi se l'età media è 60 voi capite che sono tutti su questa età. Ed è un peccato anche qui perché effettivamente la vaccinazione avrebbe potuto dare loro una protezione ed evitare un passaggio in terapia intensiva che non è veramente una cosa banale. L'appello del direttore generale dell'azienda ospedaliere è quello di vaccinarsi, per chi non l'ha fatto, di scegliere quanto prima di fare la prima dose. Per gli anziani vaccinati ad inizio 2021 è necessaria la terza dose, che come ha detto l'assessore regionale Lanzarin, presto dovrebbe essere somministrata anche dai medici di medicina generale. Gli anziani che sono ricoverati da noi sono tutti anziani che hanno fatto le due dosi, però le hanno fatti nei primi mesi dell'anno e quindi l'efficacia della vaccinazione, come abbiamo potuto conoscere, sta un po' scemando. Quindi ecco l'importanza della terza dose. Attualmente noi offriamo come sistema sanitario regionale la terza dose, oltre che le persone fragili, agli ultrassessantenni. Quindi approfittiamo veramente di questa occasione. La terza dose è importante, è fondamentale, per affrontare l'autunno e l'inverno in condizioni di poter avere sugli ospedali un basso carico di assistenza.